Venendo al tema della sostenibilità ambientale, l'impegno di Procter & Gamble è massimo. Do qualche dato, quest'anno produrremo circa 35 milioni di bottiglie del nostro ammorbidente Lenore prodotte con il 50% di plastica riciclata. Recentemente insieme alla nostra joint venture father, joint venture paritetica tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini abbiamo inaugurato a Lovadina di Espresiano, in provincia di Treviso, il primo impianto al mondo su scala industriale in grado di riciclare il 100% dei pannolini assorbenti per la persona usati, trasformandoli in materie prime e seconde ad alto valore aggiunto. E non ultimo abbiamo realizzato la prima bottiglia al mondo di uno shampoo Head & Shoulders prodotta con plastica riciclata proveniente dalla raccolta sulle spiagge che ci è valsa un premio, un award assegnatoci dalle Nazioni Unite per l'impegno sulla sostenibilità ambientale.